Un barcone proveniente dalla Libia con oltre 700 persone a bordo si è ribaltato affondando a circa 120 miglia nautiche a sud di Lampedusa. L'episodio è accaduto la scorsa notte dopo che il peschereccio, non più grande di 20 metri, ha chiesto aiuto al Centro Nazionale Soccorso della Guardia Costiera riferendo di avere difficoltà di navigazione con oltre 700 persone a bordo. La sala operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha dirottato il mercantile portoghese King Jacob che raggiungeva la barca. Verosimilmente, alla vista del mercantile, i migranti si sono riversati tutti su un lato, ribaltando il peschereccio sotto gli occhi dei marinai della nave portoghese. Recuperati pochi superstiti, il bilancio delle vittime è terribile. Il Premier Renzi in conferenza stampa prova a scuotere l'inerzia dell'Unione Europea invocando un vertice straordinario, mentre Matteo Salvini, leader della Lega, indica Renzi al fano del governo italiano tra i colpevoli dell'ennesima strage di migranti.